La grave emergenza umanitaria che ha colpito il popolo ucraino sta generando nei cittadini una forte spinta nel voler donare o nel voler accogliere le persone in difficoltà. D'altra parte la criminalità cerca di sfruttare questa situazione emergenziale, lo fa facendo pervenire attraverso messaggistica istantanea e mail richieste di donazioni o richieste di disponibilità di accoglienza. E allora i cittadini devono stare molto attenti quando ricevono questo tipo di richieste e devono sempre verificare attraverso i siti istituzionali delle associazioni la veridicità di quello che si accingono a fare. Se poi ci sono dubbi o se si vogliono fare segnalazioni o se si vogliono chiedere ulteriori informazioni